ciao a tutti e come sempre bentrovati e bentornati benvenuti se siete nuovi sul canale siete su Cartomantic dove tutto quanto è Lenormand e oggi faremo proprio col Petit Lenormand una lettura per vedere chi è in arrivo di speciale nella nostra vita come sempre due varianti questa volta lettere uccellino potete scegliere quella che preferite nel modo in cui preferite anche mettendo il video in pausa ricordo che sono letture dirette a tutti senza distinzione di genere o di orientamento che però come punto di riferimento useremo la carta 29 quella della dama ci rappresenterà tutti allora una piccola così un piccolo chiarimento sulle letture che ci saranno ormai a brevissimo quindi 13 e 14 sabato e domenica dal vivo con me di Grand Tableau e Petit Tableau allora non si sa bene per quale magia che qua proprio è l'ultima delle cose che voglio prendere in considerazione risultavano esaurite già addirittura anche la data faccio una data poi anche ottobre per il Grand Tableau non è così ho fatto un post ho chiarito appunto che cosa non lo sappiamo cosa è successo però che c'erano ancora delle date disponibili quindi adesso a tutt'oggi ora non so magari ora sono esaurite veramente ma se qualcuno si è fatto fermare da quello è stato un inconveniente quindi potete provare lo stesso se volete io naturalmente ben contenta di incontrarvi per svolgere la lettura quindi so che già c'è chi ha riprovato a chiamare naturalmente rischia che magari intanto abbiate preso i vostri impegni ci mancherebbe altro però ecco niente è successo questo quindi ero già esaurita ottobre no ottobre non cioè esaurita io sì sempre però le date no quindi c'è una data il 12 ottobre se non sbaglio mentre per il corso è ancora tutto così è ancora tutto normale diciamo quindi via di definizione per le iscrizioni potete chiamare iscrivervi ma poi comunque anche perché è incerto non sa adesso passata questa settimana inizierò a erogare molte più informazioni quindi anche molte più specifiche se avete poi come l'anno scorso necessità per gli alberghi per sistemazioni eccetera poi potrete scrivere come volete e se riuscirò ben volentieri sarò lì per aiutare ok niente era solo per precisare questa cosa visto che non sono taylor swift mi sembrava strano che fosse già tutto esaurito fino a ottobre niente è successo un piccolo disguido tecnico comunque c'era ancora posto fino a ieri ecco quindi poi oggi non ho non ho verificato ma sicuramente ecco qualcosina ancora c'è ok era solo per specificare questo adesso andiamo subito a vedere chi sta arrivando a dispiaciare nella nostra vita perché qualcuno dispiaciare arriva sempre magari non ci fa tanto piacere però noi qui siamo ottimisti speriamo che sia qualcuno dispiaciare nel senso positivo che sta arrivando nella nostra vita quindi bando alle chiacchiere adesso prendo gli uccellini e li metto da parte e iniziamo subito con la variante per chi tra voi ha scelto la lettera quindi vediamo come al solito di definire un po il campo d'azione il vostro e di questa persona speciale quindi ovviamente in questo caso quando faremo le energie dello shozen saranno le vostre e quelle dell'altra persona vediamo un po chi c'è qui caos e conflitto forse non è un bel momento per voi che siete qui in questa in questa variante nel senso che caos e conflitto può dire tantissime cose siamo ancora all'inizio delle energie però ci prospetta già due scenari o qualcuno che arriva in un vostro momento di caos e conflitto quindi si spera che sia qualcuno che arriva a risolvere la situazione risolvervi il morale oppure può trattarsi di qualcuno con cui siete o siete stati in caos e conflitto quindi con cui le cose magari non sono andate benissimo l'ultima volta che vi siete visti non è detto che sia qualcuno che riguarda la vostra vita sentimentale può essere anche un collega un amico un apparente vediamo un po trasformazione solitudine e allora la trasformazione sta qui quindi è qualcuno che diciamo probabilmente forse prima faceva parte della vostra vita e adesso invece no così come ancora dobbiamo stare a guardare potrebbe essere un momento in cui voi siete bloccati da questa solitudine da questo senso di solitudine perché non arriva una trasformazione proprio magari perché nessuno di speciale sta entrando nella vostra vita ci sono quei momenti un po grigi in cui non è detto che tutto vada male però non c'è una grande diciamo un grande affollamento di persone che ci fanno anche solo compagnia magari anche solo col pensiero sapere che c'è qualcuno che ci capisce allora coscienza ricettività e coraggio qui siete proprio alla ricerca di qualcuno non ricerca smodata però avete capito che avete veramente bisogno di essere compresi siete pronti per per far entrare nella vostra vita qualcuno e questa carta mi lascia ben sperare riguardo a questo fondo mazzo cioè potreste essere in una fase in cui sicuramente non abbiamo morale alle stelle però c'è da parte vostra un inizio di rinascita come riaffacciarsi dopo un periodo un po buio vediamo e direi che qui è qualcuno che forse in una fase appena precedente alla vostra qualcuno che ha metabolizzato il proprio dolore si sta svegliando quindi voi avete già il coraggio di mettervi diciamo in moto questa persona invece si è svegliata da un senso di torpore e di dolore che evidentemente ha marcato l'ultimo periodo della sua vita vediamo un po' attaccamento al passato per entrambi però oh c'è questo ecco c'è questo desiderio di qualcuno di nuovo nella vostra vita senza affanno vedete cioè seguire la corrente la fiducia quindi appunto in modi diversi però entrambi avete fiducia nel futuro o perlomeno siete disposti ad avere fiducia nel futuro e ci stiamo allacciando l'attaccamento al passato dall'altra parte con fatica perché queste non sono carte molto leggere diciamola così e perché abbiamo comunque qui caos e conflitto quindi è un momento di transizione non tanto simpatico ecco quindi il fatto di aver trovato il coraggio è già un enorme punto a favore però comunque siamo ancora un po' tra di vediamo ancora guardate qui è proprio la lenta cura di uno stato di tristezza di pesantezza di sconforto questo che è la carta del re malato siete stati non fermi però molto attenti a non muovervi molto attenti molto timorosi che da passare da uno stato così di apatia a qualcosa di un pochino più dinamico potesse farvi soffrire di nuovo questo è per entrambi per voi per l'altra persona che ancora non sappiamo chi sia è un momento di ripresa lenta cauta non accanita quindi non c'è questa smania di trovare qualcun altro o di comunque ricominciare a sognare c'è molta attenzione e anche una bella sensazione di appunto lasciare andare le cose perché che ci si possa veramente curare da questo dolore quindi lasciare un po' fare all'universo mettendoci nel nostro quindi risveglio coraggio e non è la negazione di quello che ci è successo ma la metabolizzazione quindi l'accettazione vediamo un po' cosa abbiamo qua si fa fatica a uscire da questo stato c'è un po' una piccola non crisi di identità molto spesso quando si rimane in una situazione che poi si rivela essere tossica o traumatica si diventa quella persona lì quindi quella persona legata a un altro quella persona che fa quella cosa che esce con quella persona che eliminando l'altro ci si trova a volte un po' così come mutilati e quindi questa non è proprio una crisi di identità ma è la fatica di ricominciare da soli quindi di ritrovare la propria unica vera identità non quella in funzione di chi non è più con noi e che fino a questo punto ci ha un po' guidato quando non manipolato è difficile di fatto abbiamo questa carta che ci dice che è proprio difficile andiamo a vedere che cosa hanno da dire gli Osho Zen su questa situazione qui c'è proprio non ci si diverte neanche più non si coltivano i propri interessi però guardate che come se tutto quello che amavamo fare fosse stato spogliato di interesse per delle vicissitudini sentimentali quindi per quanto uno ci provi però alla fine si trova sempre lì allora guardate che qua potrebbe sia essere inteso in senso metaforico che no cioè qui mi risulta che si fa pace proprio con se stessi si ritrova si sta per ritrovare anche la gioia di condivisione con l'altro questa è la carta del viaggio la carta della vacanza del relax quindi può essere sia che come ci hanno fatto vedere gli Osho Zen siamo entrati in una fase appunto di relax di ricettività e che quindi stiamo facendo pace con quanto è successo e si stanno preparando le energie per un nuovo incontro però siccome sapete che lo G è anche sempre molto concreto piantato con i piedi per terra potrebbe anche voler dire che questa persona potrebbe apparire durante un viaggio non per forza una trasoceanica potrebbe essere anche una gitarella una passeggiata però qualcosa che noi concepiamo come una vacanza vediamo chi è siamo ancora un po' chiusini però c'è la segreta speranza di ritrovare la pace ma soprattutto la gioia la serenità perché va bene essere in pace però insomma anche un po' è qualcosina di un pochino più stimolante c'è ancora siamo ancora in fase proprio di incubazione sono contenta perché migliora nettamente l'energia del primo oracolo che abbiamo visto caos e conflitto quindi sì c'è stato caos e conflitto però adesso piano piano c'è questa ripresa urca guardiamo qua è una personcina piuttosto è uscita piuttosto cupa allo stesso modo in cui siete voi eccola lì guardate allora io tendo più a interpretare questo viaggio come qualcosa di figurato quindi è una persona che è nello stesso punto nella vostra vita cioè sta vivendo un pochino le stesse cose che state vivendo voi che si sta sforzando di tornare un pochino a sorridere di ritrovare il senso della vita però in questo momento ancora insomma non siamo proprio ai massimi livelli sotto però c'è questa carta che ci indica che sarà una persona importante per la nostra vita sentimentale adesso il clou di tutto questo è che entrambi siete in un forte periodo di ripresa dopo un forte periodo di delusione e di chiusura io vi dico che molto probabilmente quando incontrerete questa persona secondo me relativamente nuova o perlomeno nuova nel vostro panorama sentimentale perché potrebbe anche essere che la conosciate già ma che fino adesso non abbia destato quel tipo di interesse secondo me è però una persona nuova o che comunque se è un po' che non vi vedete per un po' di volte sarà come se vi sfioraste no? magari voi arrivate e sta andando via oppure entrate in un posto da dove sta uscendo questa è un po' la caratteristica nel senso che proprio siccome le vostre energie probabilmente ancora non sono perfettamente ripristinate e pronte c'è la volontà c'è il coraggio c'è l'apertura però come avete visto al taglio c'è un attaccamento al passato è come se l'universo decidesse no? il timing di questa storia probabilmente comunque anche quando poi ci sarà questo incontro è una persona che incontrate per i fatti vostri cioè qui non c'è il solito intermediario sapete che a volte c'è un amico di amico di amici di amici di parenti di zii no non c'è neanche un'occasione speciale al punto che se proprio dobbiamo andare a cercare occasioni speciali io qua vi posso dire che potrebbe essere addirittura e non lo dico per niente una piccola discussione a un incrocio perché teniamo presente sempre i riferimenti di luogo anche no delle norme potrebbe essere in macchina potrebbe essere che discutete per un posteggio oppure no la precedenza l'avevo io no la precedenza l'avevo io perché abbiamo comunque un'energia piuttosto dominante altrimenti è semplicemente un incontro un po' scontro con qualcuno in un posto banale c'ero prima io in coda non faccia la furba non faccia il furbo io ero qui prima di lei ecco all'inizio secondo me non è proprio un sogno se anche fosse qualcuno che avete già conosciuto ripete qualcuno che fino ad ora non avete dato quel tipo di interesse magari non vi date del lei però un pochino le modalità sono queste ripeto non sottovalutiamo mai proprio la base concreta di queste carte perché è vero che possono volere dire tantissimo e lo scopriremo poi per chi verrà al corso sono fantastiche per determinare carattere e personalità tipo di relazioni che si possono instaurare però soprattutto sono anche delle figure concrete e qui è proprio una lite o ha un incrocio o ha un'entrata uscita e oltretutto ci dice anche che per un po' questa cosa potrebbe arrivare tanto così dall'accadere e invece non accade poi una volta chiarito o una volta dissipate le nuvole quindi magari un punto due o tre parole di chiarimento o magari vi rincontrate e quindi poi si riesce a buttare un pochino a sorridere allora probabilmente voi prenderete l'iniziativa e direte ma su beviamoci su un caffè facciamo facciamo pace avete visto che c'era anche nelle carte dell'oscio scusate dell'ogé e a questo punto si potrebbe davvero diventare qualcuno con cui si instaura una conoscenza molto promettente però tra che partite tutti e due che siete un pochino acciaccati quindi tutti e due in fase di recupero tra che secondo me c'è veramente poco di romantico nel modo in cui vi incontrate dove le incontrate appunto che appunto potrebbe esserci addirittura una piccola scaramuccia poi le cose vanno ma all'inizio è così tenete presente che appunto all'amore non nasce subito il sentimento non nasce subito inizia come si diceva una volta come prima un'antipatia poi una simpatia e poi una cosa tira l'altra però adesso non dico di andare per forza agli incroci perché così prima o poi arriva però ecco facendo sempre molta attenzione quando si va in giro potrebbe succedere questo così come potrebbe essere per esempio all'uscita di un posteggio coperto ci sono tanti indizi così come potrebbe essere all'uscita di un negozio senza andare voi arrivate da una parte poi esce dall'altra e così ora spero che ci siano meno incidenti di scontri persona contro persona possibile ecco qua la cosa bella è che cose brutte non ce ne sono neanche il minimo tamponamento qui si dice c'ero prima io non c'ero prima io quindi state sereni non c'è nulla di tutto questo però è insomma una condizione un po' particolare questa persona sta nello stesso stato d'animo vostro e mi immagino che ormai in questa variante sia rimasto solo chi ha questo stato d'animo quindi sono proprio due persone quasi uguali nella condizione diversa ovviamente nel carattere e così nelle energie di fondo nella storia personale però che si incontrano quindi invece di arrivare a cavallo di un cavallo bianco di essere presentato dall'amica fidata qui questa persona entra nella vostra vita quasi senza volerlo fare così come voi entrate nella sua però è uno di quei classici rari incontri in cui guarda un po' avete riaperto un po' i canali energetici tutti e due eppur non essendo del tutto pronti cioè non siete nell'energia di dire vado che conosco qualcuno no e neanche questa persona lo è però evidentemente è un buon momento per mettervi in contatto quindi poi mi farete sapere mi raccomando attenti a quando andate in giro perché ripeto può essere anche su marciapiede mentre siete a piedi uscite entrate da un negozio quindi ci mancherebbe altro io vedo più che altro più che viaggio a questo punto un muoversi no quindi dove ecco la spensieratezza potrebbe essere invece un po' di distrazione ok dai vediamo vediamo chi entro pochi giorni perché questo è il tempo mi racconta poi di aver incontrato qualcuno in questo modo nel frattempo mi raccomando per voi che avete scelto la lettera mettete il like iscrivetevi al canale come sempre seguitemi sui social ma è come ora dove appunto ho già comunicato per le letture del 13 e del 14 io come sempre vi ringrazio le faccio un enorme bocca al lupo e vi do appuntamento la prossima volta che ho messo cartomantica per voi che avete scelto gli uccellini vediamo chi di speciale sta per entrare nella vostra vita ovviamente vedremo anche come ma come sempre prima di ogni altra cosa dobbiamo andare a vedere qual è la situazione di partenza anche per capire poi le varie energie come si si devono distribuire quindi vediamo un po' il contesto di partenza l'energia del pensatore vediamo un po' non è un'energia che mi ispira qualcuno di nuovo nuovo potrebbe essere qualcuno su cui voi state magari rimuginando così come potrebbe essere anche l'altra persona però aspettiamo perché bisogna lasciarle proprio parlare maturità e creatività otto guarda a me sa tanto di qualcuno che fino a questo momento non si è fatto avanti o fino a questo momento non ci pensava neanche o o e o qualcuno su cui neanche voi magari avevate fatto tanti castelli in aria e adesso vi siete resi conto entrambi che è scattato qualche cosa passando il tempo adesso piano piano inizia a crescere un certo tipo di interesse e nel qualcosa capisco perché qualcuno di speciale una guida allora questo pensatore ben potreste essere voi questa energia no guarda un po' gli ultimi fatti che vi hanno guidato a comprendere appieno questa connessione e adesso ci state proprio riflettendo molto a fondo state cercando di capire cosa provate voi e che cosa prova questa persona qui uff ma guarda allora diamogli un identikit a questo soggettino qui è qualcuno che è stanco di essere da solo che da solo ci sta benissimo però dice beh potrei stare ancora meglio se stessi con qualcuno e non è un qualcuno a caso visto che è uscito proprio nella vostra stesa quindi sta iniziando a valutare qualcuno di refrattario e legami fissi o che magari ne ha terminato uno da poco quindi i classici tizi che dicono mai più ora ne parliamo perché qualcuno che evidentemente diciamo che sa come stare da solo sa come organizzarsi la vita non è che con un 9 di coppe possiamo parlare di una persona che sia noi in nessun senso però qui c'è questo suo guardare a un 2 di coppe quindi inizia a dire beh sì è vero meglio soli che mal accompagnati però meglio ancora accompagnati bene quindi sta proprio pensando sta cercando addirittura di ribaltare un po' quelle che sono le sue convinzioni o lo stress sì è veramente qualcosa che non so se sta forse ribaltando anche le vostre convinzioni perché come vi dico si tratta di una persona che già conoscete qui e forse vi fa anche un po' strano dire ma come proprio con che fino all'altro giorno manco ci pensavo che conosco da 100.000 anni che magari è amico del mio ex o della mia ex eppure qui sta scattando qualcosa quindi è stato un risveglio un po' brusco ancora più risveglio e forse ancora più brusco quando avete capito che non vi siete svegliati per caso ma è perché anche l'energia dell'altro ha iniziato a muoversi in tal senso vediamo un po' però ancora qua non sapete adesso capisco pensarci però addirittura ridursi così perché sentite forte questo potere di seduzione non c'è mica niente di male allora o si tratta di qualcuno di assolutamente proibito nella vostra vita e però anche così insomma non è il caso di perderci il sonno oppure vi state veramente chiedendo se sia possibile che proprio con questa persona stia nascendo qualche cosa vi state osservando e state considerando tutto eppure questa cosa sta arrivando io lo so che cosa faccio cioè avete probabilmente già notato nell'altra persona dei segnali di approccio sicuramente l'altra persona non è indifferente anche a questo vostro coinvolgimento anche se tutti e due state cercando di non dare nell'occhio ma quando si sta così è proprio qualcuno che mai nella vita avreste pensato che potesse rappresentare per voi un interesse romantico siete in buona compagnia perché l'altra persona anche però vi dà allo stesso tempo una forte emozione perché siete proprio quasi storiti da l'infatuazione qua tutti e due però allo stesso tempo avete un po' paura non so c'è anche un po' come la paura che poi esca male questa cosa ma è così strana che chissà qui non c'è uscita nessuna carta allora qui si va verso proprio un'evoluzione e questo nostro elefantino tanto caruccio ci dice che tutto sta portando là è un'evoluzione un po' faticosa che però porta poi a considerare sugli aspetti positivi perché qui sta per succedere qualcosa di molto bello di molto importante che vi metterà proprio uno di fronte all'altra e lì è difficile poi resistere per questa volta poi non pensate che io faccio le differenze tra una variante e l'altra nell'altra variante mi sono balzati fuori altri qui no e ho bisogno di vederci chiaro su una cosa quindi lasciatemi guardare qua per adesso diciamo che questo cavallo di bastoni è così pieno di passioni si risolve fino ad essere in timide offerte sì allora andiamoci piano ripeto a meno che non sia benzebù in persona non capisco tutto questo questo timore nel lasciar partire la cosa sì l'unico motivo che mi viene in mente vedendo un po' l'energia è che magari questa persona abbia con voi o con qualcuno che voi conoscete dei legami per cui forse potrebbe essere un po' imbarazzante e daie il fatto di far partire una storia potrebbe essere appunto vista la croce una crisi ancora in corso con qualcuno voi caro potrebbe essere non so il non ancora ex del vostro migliore amico potrebbe essere il non ancora ex o recentemente ex di qualcuno che conoscete magari nell'ambiente di lavoro o qualcuno che secondo i vostri standard ognuno dei propri non ritenete opportuno coinvolgere o lasciarvi coinvolgere nella vita sentimentale ce ne sono tantissimi qua sì però raga quando le cose devono succedere succedono qua iniziate proprio iniziando a prendere piede questa storia qui si sta passando dal ritrovarsi sempre più frequentemente a fantasticare su questa possibile relazione e a trovarci sì molto bene allora eh sì ecco cos'è qua sì guardate manco lo sapevo ma ecco qui allora potrebbe facilmente essere qualcuno o che ha recentemente rotto con qualcuno qui voi volete peraltro molto bene quindi quindi vi sentite forse anche un po' a disagio oppure qualcuno che non ha ancora rotto ma che per esempio si sta confidando con voi sui problemi che ci sono nella coppia poi qualcuno che anche se fosse già libero voi state come considerando come impegnato e forse continuerete a considerarla così anche fra un anno o due nel senso che il rapporto che vi lega questa persona passa per un altro punto quindi potrebbe essere veramente compagno agli sgoccioli o compagno quasi ex o recentemente ex di qualcuno a voi molto caro addirittura un familiare quindi voi vi sentite proprio insomma non benissimo ecco perché c'è tutta questa questa cautela questa valutazione attenta però guardate che qua fra poco le cose si fluidificano vi direi anche che questa persona dentro di sé ha chiuso completamente con io lo considero già ex e non c'è proprio nel modo più chiaro possibile però vi direi che ormai le cose non sono recuperabili non vi sto a dire che l'altra persona sia un fiore anche se questo mi rendo conto che alleggerirebbe di molto i vostri scrupoli però vi posso anche dire che qui non ha rotto per voi qui le cose erano già massacrate prima voi siete quella ventata di nuovo ottimismo di freschezza di rinascita che finalmente avevate bisogno entrambi per un po' questa cosa rimane ancora così nell'aria non succede subito però già è nell'aria adesso quindi qui inutile nascondersi dietro il solito dittino qui avete capito tutti e due fate finta di niente vi state entrambi facendo un sacco di domande inutili posso dire che sono ma tu guarda se doveva capitare proprio con questa persona magari mi sto sbagliando magari una mia impressione è bello che lo dite tutte e due magari non è proprio una connessione no certo che no che cos'altro ecco succedono queste cose a volte si sbaglia un po' mira però io non credo neanche perché visto quello che di buono può nascere qui può veramente nascere qualcosa di importante per adesso secondo quello che vedo appunto abbiamo una cicogna qui abbiamo delle carte comunque che fanno pensare proprio a questa rinascita potreste essere vicini a un momento in cui si fluidifica un po' questa tensione l'abbiamo visto e ve lo dite sarete più espliciti l'uno con l'altro però sempre nel silenzio rispetto al mondo quindi qui abbiamo proprio qualcosa che rimane occulto si esce dall'agitazione ve lo dite vi aspetta anche probabilmente un'occasione in cui sarà possibile parlarvi guardandovi negli occhi per un po' stiamo un po' fermi poi poi lentamente si si allenteranno un po' le maglie di questa tensione e allora abbiamo proprio la possibilità di iniziare qualcosa di importante io credo che come già è uscito anche qui l'altra parte andiamocela a prendere avevamo un 9 di coppe è qualcuno che è stanco di stare da solo e voi direte beh ma se magari sta ancora con qualcuno che cosa vuol dire vuol dire che è come come se fosse da solo in quella relazione quindi è qualcuno che sa come gestirsi la solitudine che si è gestito per un po' anche eventuali rapporti non proprio fantastici e che però adesso dopo aver detto non ne voglio più sapere non mi beccano più invece adesso è proprio qui a soccombere a questa situazione quindi c'è una buona possibilità di uno sviluppo armonico più avanti quello che sta arrivando adesso è una sorta di reciproca confessione di quello che già sapete tutti e due ci metterete probabilmente un po' a definire un po' le cose proprio perché c'è questa ombra tra di voi però vi assicuro che è tutto risolvibile per un po' ve ne starete zitti poi nel senso che non lo darete a vedere ma qua già si prospetta entro qualche mese anche la possibilità di fare le cose in chiaro quindi è comunque una bellissima possibilità per entrambi poi vedremo insomma però questa è una persona non nuova nuova in questa veste allora vediamo un po' per chi ha scelto gli uccellini che cosa succederà nel frattempo mi raccomando mettete il like e iscrivetevi al canale come sempre seguitemi anche su Instagram e su Facebook e io come sempre vi ringrazio vi faccio un enorme bocca al lupo e vi do appuntamento la prossima volta anche con me su Carte Mantiche ciao grazie a tutti Grazie a tutti.